Buongiorno a tutti, eccoci qui nel consueto appuntamento d'inizio settimana con il vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo. Professore, a che punto siamo con la legge di bilancio? Con la legge di bilancio finalmente dovrebbe essere la volta buona. Oggi si concludono i lavori della quinta commissione, cioè la commissione bilancio della Camera. Gli ultimi nodi dovrebbero essere sciolti. Si parla di un maxi emendamento del governo di cui però non si conoscono ancora con precisione tutti i dettagli. Quello che possiamo dire è che non ci sono, almeno quanto pare a questo momento, modifiche importanti alle norme che riguardano la scuola. Quindi questa sera o durante la notte i lavori si concluderanno. Domani, mercoledì, a partire dalle ore 13, il provvedimento andrà in aula. Ci saranno 3-4 giorni di dibattito serratissimo perché i tempi sono veramente stretti. Nella notte di venerdì il provvedimento dovrebbe essere approvato dall'aula della Camera per poter poi passare al Senato subito dopo Natale ed essere approvato in via definitiva entro il 30 di dicembre, come si era previsto fin dall'inizio. Passiamo invece all'operato del Ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara. Il Ministro ieri ha inviato una lettera alle famiglie dei ragazzini della scuola media a proposito dell'orientamento e lo stesso Ministro qualche settimana fa ha detto che avrebbe emanato un decreto a proposito dell'istituzione della figura del docente tutor. Ecco, ci sono delle novità a proposito del docente tutor. Potrebbe essere la settimana buona per l'emanazione di questo decreto? Per l'emanazione del decreto io direi assolutamente no. Però una novità interessante è che proprio in queste ore sembra che il Ministero abbia trasmesso al Consiglio Superiore della Pubblica istruzione la bozza di decreto con allegate le linee guida sull'orientamento e sulle docente tutor. È un documento piuttosto complesso, verrà esaminato appunto dal CSP nei prossimi giorni. Come sappiamo il CSP normalmente ha 7-8 giorni di tempo per esprimere il proprio parere, quindi avremo il parere nei giorni dopo Natale io presumo e a questo punto dopo quella data il Ministro potrebbe iniziare a lavorare alla emanazione del decreto. I nodi da sciogliere però non sono pochi. Per esempio ci sono nodi anche di natura contrattuale, cioè se il decreto dovesse riconoscere anche degli aumenti stipendiali o comunque dei compensi ai docenti tutor questo dovrebbe avere anche un passaggio contrattuale. Quindi non sarà secondo me una operazione semplicissima. Oltretutto bisogna vedere se il CSP darà parere favorevole e in che modo. Quindi siamo un po' in attesa di capire come si muovono le cose. Certamente non è una operazione che si potrà fare in tempi rapidissimi. In po' di giorni ci vorranno di sicuro. Bene, lo stesso Ministro Valditara proprio oggi ha inviato una circolare a proposito del divieto di cellulari in classe. Che cosa ne pensa? Francamente è una circolare che mi lascia un po' perplesso. Cioè una circolare che dice guardate che le norme stanno scritte nello statuto degli studenti e delle studentesse onestamente mi sembra una circolare un po' superflua, un po' pleonastica. Oltretutto credo che su questa materia sarebbe bene che le scuole venissero sollecitate a usare, a valorizzare la propria autonomia organizzativa. Non vedo perché debba intervenire il Ministro con delle indicazioni che lasciano poi un po' il tempo che trovano. Questa almeno è la mia opinione. Bene, professore. Infine passiamo alle ricorrenze. Cosa si ricorda questa settimana? Beh, questa settimana e precisamente il giorno 21 c'è una ricorrenza importantissima. Il 21 dicembre del 1962 e cioè esattamente 60 anni fa veniva approvata dalla Camera in via definitiva una delle leggi che ha fatto la storia della scuola italiana e precisamente la legge che istituiva la scuola media unica e cioè che spazzava via il vecchio sistema di scuole di avviamento, scuole postelementari e così via e parlava appunto di scuola media unica. Fu una legge molto controversa e molto combattuta. Per un anno intero, forse anche di più, ci fu una contrapposizione serratissima fra i due schieramenti. Tanto che si parlò della battaglia per il latino, perché c'era lo schieramento che voleva il latino nel curriculum della scuola media e lo schieramento che non voleva l'insegnamento del latino. Alla fine la legge venne approvata con un compromesso e cioè con il latino come materia, come dire, facoltativa nell'ultimo anno della scuola media. Ricordiamo che peraltro la legge venne approvata con il voto contrario sia dell'estrema destra, cioè il partito monarchico, e sia della sinistra, cioè il partito comunista. Ad ogni modo il 31 di dicembre la legge venne pubblicata nella gazzetta ufficiale e a partire da gennaio diventò legge dello Stato. Bene, grazie professore per queste risposte. Ringraziamo Reginaldo Palermo, il vice direttore della tecnica della scuola. Un saluto a tutti, alla prossima. Grazie. Grazie.